Bisogna dire la verità, guardi, e non cito il becero leghista, ma cito la Corte dei Conti che ha certificato che non c'è stato alcun tipo di spending review se non il taglio agli enti locali. Lo dice la Corte dei Conti, non lo dice la Lega. E quindi la loro spending review è stato un taglio ai servizi o un aumento di tasse degli enti locali. Diciamo le cose come stanno. Avete voluto finanziare una politica che poi in buona parte io non condivido, ma quello dopo sta nelle scelte politiche, però l'avete finanziata facendo affare quello che te dicevi prima, ovvero ai sindaci, le settori, gli sceriffi di Nottingham. Il problema è che dopo ci rimettono le famiglie, perché quando non hanno soldi per pagare l'aumento delle tasse sulla casa, quando non hanno i servizi magari di scuola a bus per i propri figli da portare a scuola, quando si vedono magari i servizi del trasporto pubblico locale aumentati o tagliati, è una scelta politica del governo che sta facendo... Allora, De Micheli, aspetti perché...